Ciao, sono Sorpisti di Francesco, benvenuto al mio nuovo video sul gioco all'interno delle arene. Oggi ti parlerò di una nuova tecnica, la presa dell'angolo, cioè cosa significa, come svoltare l'angolo. L'angolo inteso all'esterno dell'abitato, quindi nella strada, quando devi girare intorno ad una casa, quindi non confonderti magari con l'altra tecnica che tu già conoscerai, quello che si effettua all'interno del corridoio, quindi come prendere l'angolo ma spogliando l'angolo, tipo un ventaglio, e man mano aprendersi. Quella è un'altra tecnica, si fa all'interno, intorno a te c'è i muri, il soffitto, quindi hai una copertura maggiore. Mentre quando sei all'esterno dell'abitato, come puoi vedere da queste immagini in basso a sinistra, hai la minaccia a 360 gradi, quindi ti devi muovere con la tua squadra, o comunque col tuo coppio, in maniera tale che sei sempre coperto. Ok, qui nell'immagine cosa vedi? Una coppia che sta avanzando e arriva all'angolo. Ora sono in due, ma poteva essere una squadra da 4 o da 8, quindi supponiamo che alle loro spalle ci sia un'altra coppia, o comunque il resto della squadra che fa sicurezza, o che comunque l'aria è sicura, quindi muovono. Come vedi, il loro settore di tiro qual è frontale, che da qui potrebbe arrivare una minaccia, è 45 gradi slash 90. Dietro abbiamo detto che supponiamo che sia sicuro, quindi questo mino dovrà girare, ma non puoi svoltare così all'improvviso, potresti trovarti una minaccia. Quindi qual è la tecnica? Uno mino va a terra, si sporge dalla parte bassa, mentre gli altri componenti della squadra continuano a fare sicurezza a 360 gradi, perché come vedi è tutto aperto. Quindi guarda e ispeziona dalla parte bassa. Perché? Perché viene naturale osservare ad altezza uomo, quindi se ti sporgi con la capocetta da qui potresti essere visto molto più facilmente, mentre dalla parte bassa, vediamo, ecco qui l'altra immagine, la parte bassa sporge soltanto parte della testa e potresti essere anche coperto da eventuali erbe o comunque detriti sul terreno, ed è molto più difficile essere visto, perché comunque tutti continueranno ad osservare qui altezza uomo. Un altro metodo è quello dello specchietto, che viene usato sia all'interno che all'esterno degli abitati, ma attenta ad un riflettere la luce del sole, quindi occhio che il sole non provenga proprio dalla parte dove sta osservando e potrebbe emettere dei riflessi e quindi far scoprire la tua posizione. Ok, una volta osservato ci si riarsa in piedi e si effetta questa rotazione assumendo questa posizione, il primo in ginocchio, il secondo in piedi, in maniera tale che si può effettuare fuoco senza essere colpito o colpirsi a vicenda. L'importante è che il tromboncino, il vivo di volata, non superi lo spigolo, perché in caso di emergenza si ripiega subito dietro l'angolo. Come vedete l'uomo dietro in questo momento sta tirando a sé l'uomo in ginocchio, perché c'è stato un contatto, quindi fuoco, hanno risposto al fuoco e subito, mentre questo uomo ancora è impegnato a far fuoco, l'altro se lo tira dentro. Quindi abbiamo detto ci si sporge soltanto quel tanto che basta senza andare oltre in maniera tale che in caso di emergenza basta una piccola strattonata e sei già al riparo, vedi? Questo uomo è dentro, non ha superato questa linea qui di copertura. Vediamo un video che ci aiuta a capire meglio. Eccoli, si preparano, l'uomo va sotto, si sdraia a terra senza mai sporgere dallo spigolo, osserva, l'aria è sicura, si riarsi in piedi, magari lo aiuta l'omino dietro, afferrandolo per la maniglia, si preparano e prendono l'angolo. Ok, l'angolo è pulito, continuano il movimento. Vediamolo da un'altra angolazione, come prendono l'angolo? Ecco qua, subito si sporgono, tutto un angolo pulito, prendono subito il movimento, quindi devi essere rapido. Una volta preso l'angolo, come hai visto, sono sporti leggermente. Rivediamo, eccolo, si sporgono leggermente ma già stanno in puntamento, subito si arsano in piedi, effettuano il cambio spalla perché si trovano meglio così e continuano il movimento. Bene, questo è tutto, spero ti sia piaciuto il video e soprattutto l'abbia trovato utile. Purtroppo questo non lo puoi trovare sul mio manuale in quanto sarà materia del terzo volume che sto ancora scrivendo e che sarà sicuramente pubblicato nel 2020. Comunque se hai domande o dubbi lasciami un commento e ti do una rivederci al prossimo video.